allora vediamo rubino blastato fabbio z ha distrutto il nostro caro amico rubins perché ignorante senza alcun talento lui mi ricordo che famoso per essersi cagato addosso in live aver fatto vedere mutande piene di merda invece davvero si è famoso soprattutto per 20 euro disturbo è pure famoso per aver preso a carci misteraide durante una fiera però 20 euro disturbo è uno dei video più belli di tutta youtube italia non l'hai mai visto no e quando sbacco la trance in macchina ci parla solo poi la manda via e lei fa 20 euro disturbo per il disturbo vabbè non ridurre l'arte così però capito aspetta quella è neorealista non avevo capito il titolo non sto scherzando quello è un capolavoro no ho capito l'ho visto in effetti ma il titolo non me lo ricordavo è desichiano o pasoliniano se vogliamo pasoliniano desichiano tipo pane amore e fantasia no quella già la la sua fase non neorealista perché io io so qualche cosa qua e ladri di biciclette tipo capito cioè neorealista un po meno triste siamo gli intoccabili e voi ce l'avete rotto a quello 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 era umberto di umberto di quello che cantava questa canzone ma ne era umbertone un bertone ma andiamo avanti ma sta morendo hai bannato al fine ha capito santoro come santoro e ora fa nomi di socio comunque che palle ragazzi c'è ma in realtà ci hanno detto che si può non è non sarà l'intera live un aneddoto volante esatto non non puoi fare l'intera live però se avete una clip di cinque minuti vabbè una clip per che ci riguarda anche io ho sentito santoro non lo so ma si scia ma certo sta diffamando gravemente ed è il nostro diritto è stato fatto pure con l'innominabile ragazzi avevamo chiesto già chi di dovere la moderazione che non ha talento però sa sfruttare perché triste quando non hai talento più bravi però quando non hai talento si deve reinventare già le persone che ce l'hanno si devono reinventare capisci hai già detto una cazzata però mi ha già detto una la prima cazzata che si autosmentino da solo iniziamo con il debentaggio ma c'era con rubino qua rubino esatto stavo facendo cronaca ma si ma santoro perché l'ha detto non ho sentito così io vado cosa cosa ha scritto rubino e grimpa allora evill su questa cosa qua allora io sono molto onesto allora voi potrete dire sempre queste cose rubino sanguisuga eccetera eccetera vi spiego lui sa potreste anche avere ragione uso il condizionale ma perché avreste ragione mettetevi nelle condizioni rubino io in realtà lo appoggio cioè sono d'accordo con lui per il semplice fatto che ragazzi rubino cosa può fare cioè non può parlare di filosofia non può parlare di chimica anche non può parlare ma che significa nemmeno nemmeno che ne so gg proietti può parlare di chimica a parte che non può parlare di nulla però perché ha deceduto purtroppo c'è il re di roma e finciate per proietti matematica se gioca ai videogiochi l'enfasi che ha è la classica di un ragazzo romano scusate ma fa bene cioè io non sono uno stronzo che ha tutti fa bene l'avrei fatto anch'io se io avessi questa opportunità di fare la stessa cosa da da grimbaud e da chiunque ha lo farei cioè perché la vita la critica genio è un po l'è la critica è un classico ragazzo romano è fatta di denari fa bene tanto che lui appaia o no intelligente vive la sua vita ed è felice lo stesso e tanto non lo percepisce ma poi se l'ho scritto che uno debba apparire per forza intelligente anche perché tu staresti facendo veramente un lavoro precario ha basato la sua fortuna sull'ignoranza magari tu sarai una persona intelligente però hai fallito in tutto quindi fai anche il paragone con te stesso però con un po di lucidità no a guarda gli altri grazie claude 99 perché lui se pensa di essere una persona diciamo sveglia intelligente acculturata sicuramente lo è però penso che tu proprio se la dimostrazione che queste non sono cose fondamentali che poi te conferiscono un qualcosa su un piatto d'argento perché te non te non me sembri insomma in quella condizione ma poi ma quando ha detto la classica enfasi del ragazzo romano ma che cazzo vuol dire che significa che quando fa gol fa daie si non si è capito tipo come se fosse una molto comune che si trova ovunque quella capacità solo è romano cioè se lui solo per quello fa rita perché è romano allora qualunque ci sono milioni di romani pensa che tutti i romani sono tutti uguali ma magari ci vede così simpatici tutti come rubino sarebbe bellissima a roma è romano normali abbandona questi stereotipi fabio c'è amen ma chi se ne frega no sì infatti a tem troppi l'an taxing si canta che ha fatto pugilato qualche mese ridicolo come flame vabbè ma tanto lo 90 per cento delle persone che nel lazio ha fatto pugilato ragazzi ma ricorda stiamo parlando ma che c'entra il pugilato cioè non ho capito ma qua vabbè uno in chat ha scritto si vanta pure di aver fatto pugilato come flame vanta addirittura non è che di vantare che vanto è secondo me mi vanto pure che ho fatto karate ma l'hai vista la clip di rubino l'ha detto per giocare per sfidare gioco stava giocando e poi l'avevo sfidato io dieci minuti prima ma sean perder in live lo sfida io ho lanciato la sfida raga io l'ho visto ricaricato ci sta rubino in una live che racconta di aver fatto box e poi si mette guliardicamente da qualche pugno a si ma dico ma stava l'avamo vista pure insieme vabbè ma stava a scherzare sei un bullo alla gag rubino questo mente una che era rompere il cazzo a una persona che si diverte senza porre critica alcuna questo si chiama proprio regà lo sapete come si chiamo c'è magari bravo in quello è facesse come il cicalone poi vabbè non è cantante cioè rubino nella classica è l'italiano medio che vuole anche lui fare un cazzo ma ne ha diritto però è inutile cioè non posso dire le bugie fa bene ok ma non ha talento cioè muovi per carità è ognuno deve fare quello che vuole ma chi è che ha eretto fabio z come colui che decreta chi ha talento o meno da tutte da tutte le parti chiunque decide lui il talento è proprio è relativo a parte che rubino se proprio dobbiamo dirlo è un bravissimo networker lui c'ha le sa mettere sa creare veramente del delle connessioni per lavorare meglio per ottenere magari ma intelligenza sociale ha molta intelligenza sociale in questo è più di tutti noi messi insieme a bellù è sempre parlato male guarda che c'è un video suo di fabio z che ho salvato sul pc molto vecchio che era abominevole abominevole l'immagine di copertina era rubino photoshopato come un maiale col naso da maiale ed era pieno di offese quel video e anche auguri di morte e io ce l'ho salvato quindi la shampoo del mio caro fabio z ma fortunatamente ma poi mi dispiace o lui è entrato da anna in live da anna per due tre volte abio z dice sì ma sì io gli faccio anna ma sei scema a farlo entrare me fa già lui tu non ci crederai è entrato sembrava un'altra persona cioè se tu non lo conosci e lo vedi solo per come se posti in live da anna era pure un'ottima spalla ma guarda che diceva bene gli argomenti argomentava guarda che non è ma poi a volte si trasforma e diventa io sono sincero questo diventa capisci quando non vomita odio a me piace io mi sono visto moltissime live sue e secondo me è effettivamente una persona molto intelligente però non capisco perché abbia questa voglia però non è neanche criticare parlare parlare male proprio astio ma si vede non so perché ma però su tutti ha una tendenza a sminuire tutti magari anche senza conoscere le persone e non è neanche quella franchezza che magari ha uno sdrumox ok cioè ad esempio sdrumox ma anche marco sono persone molto dirette che riescono anche a beccare dei punti di problematicità su determinati streamer determinati credo sì ma al contempo a parte il fatto che offrono anche buoni contenuti loro però vabbè quello al di là di quello poi ma senza contare che magari loro lo fanno anche io ascolto una di marco merrino perché stimo il lavoro di marco merrino ma una critica anche idiota come come questa non ha valenza zero può avere valenza se è una persona intelligente può avere una capacità analitica ti ripeto il problema è che mischia tutto ciò che non è presente qui è cioè questa è una nuova argomentazione tu puoi dire rubino ad esempio sul suo canale dovrebbe migliorare questo questo e questo oppure anche con toni forti noi siamo i primi però vedo proprio roba pretestosa ecco ma poi spesso si perde pure perché allora se tu sei bravo comunque ad argomentare eccetera è bravo sì però si perde spesso soprattutto quando parla magari di noi di rubino e di altri in quelle due tre parole che gli compromettono un discorso intero che poi neanche lo fa tipo di dire come lo facciamo noi che magari metti a sfardellata l'insurto però è tempo comico c'è quell'intento lì lui non penso che abbia un intento comico no cioè è proprio un blasting uno sputare veleno a volte così a prescindere certo che poi a me spiace perché io sotto certi aspetti lo apprezzo sinceramente quello l'aspetto per il quale non vuoi che ti denunci no per cosa mi dovrebbe denunciare poi lo facesse non è quello è quasi il contrario veramente tutto quello che ha detto su di noi capirai però veramente cioè ci avrebbe delle capacità potrebbe essere un buon podcaster ma anche un buono streamer sì sì è un ottima spalla te l'ho detto lo so o è frustrato per ha fatto top live te l'ho detto ma lo so o è frustrato perché magari si aspettava altri risultati dalla sua carriera sul web non lo so poi neanche se gli interessi realmente oppure lo fa perché sa che in questo modo attira chissà visualizzazione boh non lo so molto probabilmente attacchiamo avanti andiamo avanti la visione dai sì sì andiamo avanti ci stiamo le persone fanno pugilato si piguglio si canta che ha fatto pugilato qualche mese ridicolo come flame beh non a caso non a caso buttiamola sui zodiacali non a caso mister flame del leone sei del leone io sei del rubino siete del leone qua 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 me sta affarite ma vabbè perché sono cose che comprendo ma comprendo l'ironia di questa stronzata ah era ironico non era serio sono entrambi del leone quindi sono due persone grazie Loris per il commento i segni di fuoco sono solo e siamo solo ignoranza pura però ci sappiamo vendere molto bene tutto lì cioè non è che dici quindi se uno ha un segno di fuoco rimarrà ignorante per tutta la vita chiunque è nato in quei mesi ti mica piangono i bambini che sono nati a costo ma poi anche i miei fratelli sono del leone sì 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 quindi andiamo avanti va grazie Davide grazie Gabriele cosa fa? grazie Enigma ma chi sei te per dire che Rubino ha talento grande Enigma so chi sei andiamo avanti Michael Pasini molto piacere sono Fabio Z Talentscount riesco a sentire il talento distante a chilometri sei contento? uno sta mangiando un fritto mio pensate ai VIP senza talento perché voi credete che Paolo Bonolis abbia talento? qual'è il talento di Paolo Bonolis? ok qua è ironico qua è ironico dai ma qua sta scherzando talento di conduzione estremo no vabbè ma qua è palese troll adesso ma anche l'arte oratoria di Bonolis è incredibile balbuziente tra l'altro sì ma l'ha domato tempo addietro proprio è un giocoliere della parola ha vinto anche un record lo sai? sì il Guinness World Record è per più parole dette in minor tempo possibile è proprio impuntato non ve la balbuzi saper essere loquace usando una terminologia che lui ha è un talento ma non credo che sia capace a fare altro nella vita ma quante cose devi saper fare? cioè ognuno ma sta tenendo in piedi una trasmissione a livello di intrattenimento sempre qua ti mantiene l'attenzione ma stiamo scherzando ma io gli ho dato troppa fiducia ma bacce te al posto del Bonolis te l'ha detta la cazzata a fine io pensavo che era deciso la cazzata invece l'ha detta pure su Bonolis incredibile ripropongo sono entrato anche io su Discord con Anna e Fabio mi sono trovato benissimo in quella circostanza argomentazioni top e grande umanità non capisco questa abivalenza ma infatti è quello che dico è strano è una cosa che non si capisce quale delle due è la maschera? comunque in chat scrivono inquadrature fluidissime Chitano giustamente sei sagittario giusto il collegamento come Fabio Z no neanche sono sagittario se eri leone l'inquadratura tremava e ce l'ha avuta la sopra io vergine vergine è di fuoco è di fuoco allora inquadratura non va bene sei un idiota sono ignorante vergine cos'è? ma è un maffa di fuoco terra no fuoco lo dita cazzo esistono segni di fuoco ariete quindi pure io leone e sagittario cioè quindi due su tre e te sei bilancio due su tre conduttori del Cerbero Podcast non sono in grado in quanto segni di fuoco ignoranti sono male che tenga la baracca con il mio segno di fuoco sono persone impetuose appassionate che difficilmente si piegano alle regole giusto è vero è vero è vero è vero è vero tutto vero poi segni di terra toro vergine capricorno quindi sei di terra io sono di vento aria che cazzo è stava scritto aria sei un dominatore dell'aria tu sei una persona affidabile posata incredibilmente pratica e spesso non corrono grossi rischi giusto oddio sono io è tutto vero è tutto vero capite gli occhi capite gli occhi agli astri invece appunto segni di aria gemelli bilancia e acquario i segni di aria sono spensierati brillanti pensatori al loro agio tra i concetti astratti ma che amano analizzare sintetizzare e investigare sono io c'è il bot gate vabbè oggi è vero ma zzi ma andiamo avanti e andiamo avanti no no dedicato a merluzzo però non è che questo grande talento attribuire a rubino un qualcosa che non sia associato al talento insomma ragazzi il factotum da latino non può essere ovunque non possiamo assomigliare ad essere bravi come tutti ma la smetti di flammare gli intratteni molto bene io non devo intrattenere sì no quello sì scusa ero preso devo essere simpatico ma devo intrattenere al minimo indispensabile nessuno ha detto che non sa intrattenere solo che la smette di cazzate questa è l'unica cosa che non va bene se no poi se vuole fare il suo show facesse il suo show perché è benissimo in grado di farlo non è una persona stupida però capito in questi casi dice cose stupide e sono evitabili Nightcrawler Cristiano Meritocratico Rubino sarebbe al massimo un cameriere esatto bravo ecco vedi cazzate sì è super cazzate ma che cazzo di cattiveria madonna mia è praticamente proprio così è il paese dei balocchi proprio dei fallimenti della cattiveria c'è guarda che ci stanno certi posti che uno non è che lo decide o lo scrive è proprio che in automatico si riempiono tipo il forum dei brutti ma neanche come per esempio che ne so i bannati magari noi abbiamo qualcuno proprio che ci odia oppure è bannato magari sta in qualche altra chat proprio si incontrano si trovano gruppi telegram o c'è stava un gruppo di telegram che mi ricordo con 3-4 persone bannate ma sono tipo i goal dei fallout se si creano capito sti sti combricoli magari tipo tutti la chat del Fabio Z appartiene per l'appunto a questo ritrovo in case abbandonate mamma mia nell'ombra pure su youtube ci sono 3-4 anche tu odi il cerbero hanno bannato anche te ci sono odi mi hanno bannato perché ho criticato le paretice odiamoli insieme andiamo tutti da Fabio Z goal luminescente non è offensivo io l'avrei capito in un sistema meritocratico Rubino farebbe il cameriere oh Sebastian 5 abbonamenti regalati grazie oddio amen e poi senti Rubino fare il cameriere ah signor che ci porto che ci porto signor signor che ci porto ma rambora bistecca ah signor ho fatto qualcosa che non va signor anche no spazzino non esageriamo io ho fatto il cameriere e ho sempre vinto premi di una pacatezza e dolcezza erano anche il miglior cameriere i miei colleghi non erano mai chiamati perché io sono educato mi dica scusa il cliente ha ragione se sbagliavo gli ordini mi prendo la colpa e la responsabilità come ogni cameriere come ogni persona in realtà ma poi avete proprio rotto il cazzo voi che avete fatto i camerieri che ogni volta dovete dire avete fatto il cameriere e dovete romper il cazzo avete proprio rotto il cazzo non è che se non ho mai fatto il cameriere allora non posso parlare oppure voi avete qualcosa in più da offrire perché spesso delle volte vi destronzate e trattate male i vostri ex colleghi il tavolo è storto sistemate le gambe cazzo in quattro non ve ne accorgete ce ne siamo accorti tu state a court che pazienza andiamo avanti finiamo sto video sensibilità che è oltre Rubino può fare al massimo lo scaricatore di porto Rubino sta facendo esattamente quello che deve fare il boom nel circo lì deve stare nel circo di Grambaud è la sua massima Rubino e lì deve stare bene Grazie.